Buongiorno a tutti, ci troviamo qui con Flaminia Costanzi, studentessa di marketing, pronta a raccontarci la sua esperienza Erasmus in triennale con la LUIS. Ciao Flaminia, volevo chiederti, anzitutto, dove sei stata e in quale città? Allora, io sono stata a Limega, in Olanda, è una cittadina vicino a Amsterdam. Ok, cosa ti ha spinto a fare la domanda Erasmus? Allora, io ho studiato Scienze Politiche in triennale e soprattutto in quel settore, come però in realtà in tutti i settori, l'Erasmus è davvero un'esperienza indispensabile a livello di curriculum. Quindi, diciamo che la prima cosa che mi ha spinto a fare la domanda è stata proprio l'ambizione, quindi diciamo la volontaria di creare il mio curriculum. D'altra parte però volevo anche vedere un'esperienza nuova, dal punto di vista personale, cioè mettermi alla prova, dal punto di vista personale. Credi che abbia portato effettivamente in te una crescita con questo tipo di esperienza? Sì, sicuramente sì, perché comunque andare via dalla tua comfort zone per quattro mesi e trovarti magari anche a vivere in uno studentato con tante altre persone, studiare in un'università diverso da quello a cui sei abituato, con metodi di studi diversi, esami in inglese sicuramente ti mette la prova, ti fa vivere difficoltà, però ti regala anche dei bei momenti e di sicuro torni comunque cambiato. Per quanto riguarda invece l'aspetto didattico, è nota differenza insomma tra il sistema italiano e quello olandese? Sì, sicuramente appunto come tu hai detto sì, cioè il sistema olandese o comunque appunto del nord Europa è piuttosto diverso da quello che abbiamo noi qui, è molto incentrato diciamo, perlomeno io comunque ho studiato lì scienze politiche, cioè ho fatto la terza anno di altre le scienze politiche e noi alle le scienze politiche eravamo abituati più che altro ad uno studio fatto di libri piuttosto mnemonico, mentre invece lì è molto più pratico, sei molto più incoraggiato a fare presentazioni magari di fronte agli altri, non esistono libri ma è tutto digitale, cioè vengono forniti dei materiali direttamente dal professore, quindi sicuramente questo. E poi anche comunque l'offerta formativa, magari sono previsti anche dei gruppi, dei focus group in cui si può dibattere con gli altri studenti, in presenza del professore e ha incoraggiato molto il dialogo e gli interventi, molto più che qui diciamo. Quanto invece dal punto di vista della lingua, quanto è considerato importante questo tipo di esperienza e come si è arrivata lì, cioè con che preparazione? Beh, allora io quando sono partita per l'esosmo sapevo già ogni volta di inglese abbastanza alto perché avevo un C1 e sicuramente il mio inglese si è arricchito perché studiare tanto comunque in inglese ovviamente ti porta ad arricchirlo e ad arricchire anche il tuo lessico, però secondo me è proprio un presupposto, cioè è molto difficile andare lì senza avere una chiara conoscenza della lingua perché chiaramente bisogna andare a fare gli esami ma anche proprio per comunicare con le persone, per stare comunque, farti nuovi amici, cioè più o meno in inglese delle persone che erano lì l'ho detto abbastanza alto, quindi ecco, è importante già avere alle spalle una preparazione. Anche da questo punto di vista che consiglieresti quindi questo tipo di esperienza in particolare a qualcuno nello specifico oppure, insomma, può risultare utile a tutti? Ma secondo me può risultare utile a tutti, nel senso che appunto c'è sempre questo doppio lato dal punto di vista formativo, cioè dal punto di vista del curriculum è un'esperienza che tutte le aziende richiedono, cioè anche adesso che io sono in magistrale, sto studiando in un campo diverso da quello del marketing, mi è capitato magari di fare dei colloqui e tutti appunto ti dicono hai fatto l'Erasmus, beh, è un'esperienza importante, è un'esperienza internazionale, ti serve. Quindi per questo lo consiglio a tutti. D'altra parte, soprattutto per chi magari non ha mai fatto un'esperienza fuori, lontano da casa, per chi magari non è nemmeno fuori sede, quindi per tutti i ragazzi che qua alla LUIS magari sono di Roma, cioè uscire un po' dal tuo ambiente protetto secondo me è proprio importante per la tua crescita e perché non domani comunque ci dovremo confrontare con tante difficoltà e quindi cioè è importante farlo fin dall'università, cioè spostarsi e quant'altro. Ho capito. E invece per quanto riguarda la città dove sei stata, cosa ne pensi ti è piaciuta? Ma di me è sicuramente per una persona che è abituata a vivere a Roma è molto piccola, cioè io sono stata comunque contenta di andare lì, però forse tornando indietro punterei ad una città più grande perché io comunque sono andata nel primo semestre, che è quello invernale, quindi da fine agosto fino a gennaio e ovviamente comunque l'autunno e poi l'inverno olandese, la neve, la pioggia, cioè ovviamente un po' di... poi ecco la città in sé per sé è molto piccola ed è... cioè nel senso molto ridotta, anche i locali in cui uscire sono abbastanza pochi e quindi magari dopo un po' ti puoi annoiare, può non essere molto esaltante. Però al tempo stesso anche i suoi provo alla fine è tutto vicino, ci si conmore facilmente, quindi io sinceramente punterei per una città magari più grande, però... cioè se dovessi tornarci, però anche lì comunque è un bel posto dove stare. Ecco, l'ultima domanda che hai avuto da Alissa a questa esperienza? Allora, è un'esperienza da lei 8 perché comunque è stata un'esperienza molto appunto formativa, come ho detto, però anche divertente, cioè alla fine io vivevo appunto come ho detto il studentato con almeno 9 persone in una casa, quindi è stato molto particolare, c'è avuto anche un sacco di lati simpatici, divertenti. L'università era abbastanza tosta, almeno in Olanda era molto sottostosta, però al tempo stesso ho imparato un sacco di cose, e quindi ha avuto sia i suoi lati negativi di difficoltà, però i lati positivi sono stati sicuramente maggiori, quindi direi che sia un 8. Perfetto, grazie mille Flaminia per la tua esperienza. Grazie.